Capite che conoscere giocatori e sapere di pallone vi può anche dare la possibilità di creare un posto di lavoro, perché voi avete un lavoro. Sì, diciamo che sì. Diciamo sì, passatempo lavoro, dai. Dove vi possiamo vedere e seguire? Vi potete seguire su Tef Channel, che è un canale, un emittente regionale Umbra. La trasmissione si chiama Caffè Sport, tra l'altro va anche in onda sulla piattaforma Sky, canale 831.